E' un assassino proprio come tuo padre e sei qui per ucciderci tutti. No, solo Dino. Sindri, no! E' un'amica. Gli amici non portano la fine del mondo alla tua porta di casa, Loki! Hai ragione, hai ragione. Ho preso delle decisioni sbagliate. Lo fai spesso, non è una buona scusa. Non è una scusa. Io voglio solo rimediare. Skjolder, sta bene, tu l'hai visto. Perché me lo chiedi? Di cosa stai parlando? Odino vuole sacrificare i Midgardiani. Gli ha schierati lungo il muro come scudi, pur sapendo che non sanno combattere. La loro morte serve solo a rallentarci. Perché mai lo farebbe? E perché io dovrei credere a te? Perché ha ragione. Odino è così. E lo è sempre stato. Mamma, perché sei qui? Che cosa? Sacrificerebbe chiunque se lui avesse un problema. I Midgardiani. Il tuo amico. La nostra famiglia. Tutti noi. Speravo che tuo padre gli tenesse testa. Adesso invece dovrai farlo tu. Mamma, che stai dicendo? Trude. Non ho mai dubitato che saresti stata la migliore Valkyria che questi regni abbiano mai visto. Ma non per lui. Tu lo capisci? Ma la nostra famiglia? Senza Odino saremmo di nuovo una famiglia. Una vera famiglia. Lui sta sbagliando. Ha detto che... restando lì eravamo al sicuro. Che gli dovevamo... Tu non gli devi la tua morte. Ma dai. Papà non li lascerebbe avvicinare a nonno? Va con loro. A te darà ascolto. Te la senti di cercare la tua gente? Sì. Ti voglio bene, mamma. Anche io, Trude. Finalmente. Ora colpisci. Schiaffa. Ben fatto, figlio. Ben fatto. Chi è la ragazza? Ciao, Trude Torsdottir. Torsdottir? È mia amica. Attenzione! Attenzione! Trude! Combatti bene! Mio padre! È evidente! Sì, beh... Grazie. Scusa se lui... non... Lo so. Attenzione! Attenzione! A destra! In arrivo! Dietro di te! Attenzione! Attenzione! Oh, questa l'ho sentita, fratello. Oh, questa l'ho sentita, fratello. Che succede? Pensavo che Ragnarok dovesse aiutarci. La creatura non è intera. Così com'è, è incompleta. E non può adempiere allo scopo. Attenzione! Hai del Bifrost addosso. Fa' attenzione! Bifrost a sinistra! Ehi, dov'è andato Sindri? Ha fatto la sua parte. Il resto tocca a noi. Alla a tua destra! Attento! Attento! Tietro, fratello! Tietro, fratello! Ti affa! A destra! Attieni il controllo, fratello! Lo so! Attenzione! Colpo di scudo, ora! Rifrost, a sinistra! Attenso! Come on! Atenzione! A sinistra! Perfect! Attenzione! La grande dimora. È là che dobbiamo andare. Non ha voluto ascoltarmi. Forse non è il nostro maggior problema. Yermungandr! Torna da tua sorella. Devi tenere a bada Ragnarok. Qui ci penso io. Ma se potessi... Prendi Atreus e la maschera e non voltarti indietro. Mio figlio si fida di te. Perciò mi fido anch'io. Sta lontano da lei! Papà, fermati! Ne ho abbastanza di te e di tuo figlio! Basta con i giochetti del cazzo! E stavolta... Ho il permesso di ucciderti. Non siamo costretti a farlo! Oh, sì! È ciò che siamo! Il ragazzo crede tu sia cambiato! Dimostralo e falla finita! Basta parlare! Lo fai fuori! Te la faccio! E tu? Non basterà! Tutto qui? Sei ciò che ti ha reso Odino! Vuoi scegliermi? Morirete tutti! Guarda! Ah! Ah! Tor, per una volta, pensa da solo, la tua famiglia è a pezzi Basta! Non fingere di conoscere Attacchi mia figlia! No! Io non... Così fare questo a casa mia, alla mia famiglia! Faccio, 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 faccio È la fine! Tu morirai per prima! Poi il ragazzo! Oggi uno di noi deve morire! Sicuramente non io Tor, Trude, non vorrebbe mai che... Non devi nemmeno osare nominarla! Andava tutto bene prima dell'arrivo di Loki! Mi ha quasi convinto! Mi ha illuso che le cose potessero cambiare! Tor, ascoltami! Non voglio darti ascolto! Odino, no! Chiudi quella fogna! No! 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 Why doi! Die! ! che cazzo stai aspettando tua figlia mio figlio la considera un'amica se solo provi a farle del male non lo farò tu non sai che cosa ho fatto certo ma che cosa farai adesso noi non cambiamo noi siamo distruttori non più non più per il bene dei nostri figli noi dobbiamo essere migliori grazie a tutti grazie a tutti